La mia attività nasce circa dieci anni fa dove abbiamo iniziato praticamente a credere fermamente in quello che oggi è presente ma all'epoca doveva essere il futuro e quindi quello che riguarda poi la comunicazione digitale. La vera difficoltà si è avuta proprio nel far capire innanzitutto che questo sarebbe stato un lavoro ma soprattutto da far capire che queste sarebbero state le figure necessarie oggi alle aziende per lo sviluppo. Continuo, costante, asfissiante aggiornamento e soprattutto continua ricerca delle fonti perché ad oggi purtroppo il problema io non sono un nativo digitale e il problema di chi fa la mia professione o di chi vuole fare la propria professione in maniera moderna e quindi a livello web, a livello digitale è che non abbiamo predecessori. Non ci sono persone che hanno i capelli bianchi che ci possono trasferire la loro esperienza. La potenza internazionale, l'affidabilità internazionale che ti dà un sistema come Godelli, pochi oggi in Italia possono offrirsi lo stesso servizio. Quindi è questo il motivo per il quale mi sento di consigliare Godelli.